Sono specialmente quando c'è le feste, c'è questa invasione di mezzi vandali che in effetti fanno un po' di baccana. I residenti vicino a piazzale D'Annunzio a Pesaro sono esausti di assistere all'ennesima rissa di gruppo di regolamento dei conti avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa nel piazzale della zona mare di Levante. La terza negli ultimi fini settimana che ha visto coinvolti dei ragazzi di età compresa tra i 17 e i 21 anni e un 32enne pesarese. Quest'ultimo ha iniziato a provocare i ragazzi seduti a un tavolo di un locale nelle immediate vicinanze. Il provocatore ubriaco ha scatenato una reazione dei giovani, uno del gruppo non ha accettato gli insulti ed è iniziato subito il caos. La collutazione tra i due è avvenuta in pochi istanti. Ad avere la peggio è stato il giovane che ha ricevuto diverse botte dal 32enne. Poi non sono mancati spintoni e altri ragazzi sono scappati. All'arrivo delle forze dell'ordine, già in allerta e appostati in zona in Borghese, il 32enne è stato arrestato per lesioni e resistenza pubblico ufficiale dal momento che anche lo stato di fermo non è stato semplice con la reazione dell'uomo che ha resistito con forza l'ingresso in auto della polizia. Non solo piazzale d'annunzio è stato teatro di spiacevoli episodi dei weekend dopo il lockdown. Alcuni gestori di stabilimenti balneari ci riferiscono che spesso accadono atti vandalici da parte di un gruppo di ragazzi. Purtroppo abbiamo subito degli atti vandalici come cabine rotte, ombrelloni sardicati, bidoni rotti. E questo è veramente brutto quando arrivi la mattina e trovi questo disagio, questi problemi, questi ombrelloni rotti. E' una cosa che non deve succedere, dai. Dobbiamo raccogliere bottiglie di vetro, cicche, bicchieri di plastica che i locali qui sopra forniscono ai clienti. Purtroppo danno da bere, danno bottiglie di vetro anche dopo l'orario consentito di vendita. E quindi per noi questo è un grande disagio. Lei ha presentato anche un esposto particolare. Noi abbiamo presentato degli esposti, non uno solo, ma anche gli altri anni. Noi siamo tre anni che siamo qui e abbiamo presentato degli esposti a prefettura, a questura, ma finora non abbiamo ricevuto risposte. La situazione attuale, ci dicono i proprietari delle attività, è diventata insostenibile e lanciano a questo proposito un appello. Quello che magari si chiede sarebbe opportuno o una chiusura delle spiagge dall'orario di chiusura dello stabilimento, quindi da mezzanotte fino alle sei, o un controllo più deciso delle forze dell'ordine, affinché comunque sia vigilassero anche sulla spiaggia di notte, che comunque sia è un'area pubblica.